ciao ragazzi bentornati sul mio canale spero che state tutti bene allora oggi video rilassamento video tranquillo ci andiamo a truccare insieme semplicemente e parliamo anche un pochino stiamo un pochino in compagnia vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e se vi fa piacere ovviamente questo è importante se vi fa piacere ricordo che è gratis iscriversi quindi non costa assolutamente niente e di seguirmi anche negli altri social comunque lascio tutto questo in descrizione allora siamo arrivati ai 40 iscritti sono molto molto contenta di questa cosa sono contenta perché comunque vuol dire che insomma che mi sono entrata diciamo così in simpatia e sono veramente molto contenta vedo che i video vi piacciono quindi grazie veramente tanto 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 allora oggi andiamo a truccarci insieme quindi una cosa molto molto tranquilla mi metto il mio correttore e nel frattempo parliamo un pochino e niente raga io volevo chiedervi più che altro e che tipologia di video vi piacerebbe vedere qui sul canale cioè vedere se avete qualche richiesto da farmi ovviamente questo è un canale dove io faccio vedere un po di tutto insomma un po della mia vita quindi vlog svuota la spesa quindi attimi diciamo di vita in generale tanti video spacchettamento ci saranno più avanti ma soprattutto video diciamo che parlano dei di bellezza quindi non so cura dei capelli prodotti bio insomma sto portando un pochino di argomenti qui sul canale quindi diciamo che questo è un canale dove vedrete tante tante cose perché insomma è giusto che vi porto nel mio mondo insomma quella che sono io ecco al 100 per cento e io sono anche questo quindi portarvi diciamo nella mia vita in generale quindi svuota la spesa vi porto con me nelle mie giornate mi trucco i get with me che vedo che vi piacciono video chiacchiericci insomma e così ne così dove comunque no parliamo insieme stiamo insieme quindi dove voi proprio vedete il 100 per cento di di me e questo rossetto raga è molto bello quindi sono molto contenta quindi qui vedrete veramente qualsiasi cosa quindi da video spacchettamento ai video per capelli a svuota la spesa insomma al mi trucco insomma veramente tutto tutto quello che mi passa per la festa a posto quindi quindi così anche video rilassamento perché io adoro i video ASMR però ho un canale dedicato al mondo ASMR e quindi mi piace anche portare video diciamo molto più tranquilli più rilassati però so che non a tutti piace il mondo dell'SMR quindi cerco di accontentare un pochino tutti comunque per se vi piace il mondo del relax e il mondo ASMR vi lascio qui sotto il link se volete seguirmi del canale ASMR che sono veramente super contenta abbiamo già fatto un anno dall'altra parte e sono veramente felicissima perché siamo già a 500 iscritti quindi veramente super felice di questa cosa non so raga se mettermi il mascara ma non penso anche perché sono in casa ho voluto fare qualcosa di più tranquillo in realtà volevo farmi le sopracciglia ma non ho la pinzetta a portata di mano quindi ho detto ma li faccio dopo insomma perché volevo mettermi il mascara per le sopracciglia che uso questo io ma non vado a metterlo perché se devo andarle a togliere non ha senso e niente poi vi volevo chiedere se eventualmente vi può interessare un video tag dove appunto mi presento dove parliamo un po' insomma dove mi vengono fatte delle domande io rispondo questa tipologia di video l'ho già fatta nel canale ASMR perché comunque sono arrivati ai 400 iscritti e quindi ho deciso di portare appunto il video delle 100 domande se lo volete lo faccio anche per questo video quindi mi raccomando scrivetelo qui sotto nei commenti se volete vedere il video tag delle 100 domande anche qui su questo canale mi raccomando poi vedrete dei video più amanti spacchettamento perché sto facendo un pochino di acquisti su un sito molto molto interessante e quindi per le amanti del bio dell'eco bio bio sono tutti prodotti comunque biologici prossimamente uscirà un video molto interessante che ho fatto ho fatto un ordine sul sito zen store che appunto è un sito dove ci sono tutti i prodotti per la cura della persona quindi pelle capelli tutto e ho fatto un pochino di acquisti e volevo parlarvene perché comunque poi questi prodotti verranno testati e vi darò la mia opinione sui prodotti perché mi sto dando comunque al bio diciamo sto cercando di buttarmi nel mondo del bio anche se per me sarà un po di ufficilino però ci provo voglio siccome il mio obiettivo è far crescere i miei capelli lunghi cioè voglio tornare al mio capello lungo come avevo una volta tanti tanti anni fa l'unica cosa è che non ci sono mai riuscita mi dico sempre che li faccio crescere poi invece l'italia ogni volta e quindi ho detto no basta adesso voglio far crescere i miei capelli voglio farli rendere più forti più più luminosi più belli e ovviamente mi devo dare anche un pochino al bio e volevo provare l'enne quindi prossimamente uscirà un video molto più avanti però perché la tinta l'ho fatta neanche un mese fa quindi il discorso dell'enne uscirà un pochino più avanti però la prossima colorazione appunto sarà con l'enne volevo provare l'enne perché ho sentito parlare molto bene di questo prodotto non l'ho mai fatto io l'enne raga non l'ho mai utilizzato però lo utilizzeremo insieme e lo testeremo insieme quindi vi darò anche vi darò anche la mia sincera opinioni sull'enne e poi utilizzeremo vari prodotti volevo utilizzare il fieno greco fare gli impacchi con il fieno greco perché perché il fieno greco è un impacco per rinforzare i capelli quindi contrasta la caduta dei capelli li rinforza e promette una crescita accelerata ragazzi comunque vi devo dire una cosa che io sono rimasta tipo basita non ci potevo credere sto provando lo shampoo bomba al caffè ragazzi nei capelli stanno crescendo alla velocità della luce io veramente non credevo a questa cosa ma è vero quindi funziona ve lo dico c'è ve lo dico onestamente quindi se volete far crescere i vostri capelli velocemente perché non so avete fatto un taglio drastico e vi siete pentite del taglio che avete volete i capelli come prima ragazzi lavatevi i capelli con lo shampoo al caffè perché in giro di veramente neanche un anno voi avrete una ricrescita il triplo della della ricrescita normale quindi se calcolate che il 29 che io mi sto segnando tutto nella mia agenda è misuro tutti i giorni quindi non sono cose inventate il bene no quando è stato il 9 di agosto avevo i capelli di 35 centimetri adesso siamo al quanti ne abbiamo oggi comunque siamo a settembre e quindi un mese dopo comunque e i miei capelli ragazzi sono di 38 centimetri questo significa che i miei capelli sono cresciuti di 3 centimetri in un mese calcolate che i capelli crescono un centimetro al mese di natura quindi ho avuto due centimetri in più di ricrescita quindi ragazzi è una bomba sì e poi proprio li vedo cioè io vedo prima i capelli che sono lunghissimi sono veramente a parte che sono sani poi un'altra cosa che io sto facendo anche io non sto facendo più pieghe con il calore questo è il mio capello naturale io i capelli mossi cioè questi sono proprio i miei capelli lavati e asciugati così col phon senza spazzola senza niente e poi pettinati normali quindi questa è la mia piega naturale nel mio capello io ho il capello mosso e ragazzi cioè guardate quanto sono cresciuti calcolate che io fino a cinque mesi fa avevo i capelli qua sono cresciuti tanto così in cinque mesi quindi funziona sono prodotti naturali quindi comunque calcolate che il caffè non è un prodotto chimico ovviamente è un prodotto anche anti caduta quindi molto importante in questo periodo che comunque adesso c'è la caduta dei capelli quindi raga importantissima sta cosa e quindi testeremo tante cose insieme su questo canale quindi mi raccomando seguitemi se siete interessati a questi argomenti perché ne vedremo veramente delle belle e niente ragazzi questo è stato il video di oggi un po chiacchiericcio un po tra amiche abbiamo parlato spero che il mio video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao